Ora, qui c'è un tema certamente del partito, so che ne avete discusso, purtroppo siamo sempre in tutti questi mesi, avremmo voluto prendere anche qualche decisione in più a questo proposito, ma in questo tumulto è molto difficile, poi è molto pericoloso, che dà l'impressione alla fine che noi ci ripieghiamo su cose nostre che poi ovviamente il Paese è in mezzo a tutti questi guai, anche se noi sappiamo bene la connessione per il problema del Paese e come si fa una forma al partito, lo sappiamo, però non possiamo dire di essere in grande compagnia attorno a questo tema qui ancora. Insomma, noi se mettiamo la nostra vicenda dentro al contesto di oggi, almeno ai miei occhi, funziona così, noi abbiamo avuto 4-5 anni fa una grande intuizione, se non fosse stata una grande intuizione non saremmo qui e non saremmo il primo partito del Paese, quindi mettiamo per risolto questo aspetto, no? No, perché fino a due anni fa abbi, boh, boh, chiusa.